Come si è successo? Come hanno detto questa scoperta? Sì, è stato un po' di caos nel finale per via delle rotonde, poi la Quickstep ha preso la leadership a 500 metri. Io sono riuscito a prendere la ruota a Viviani e ho provato ad anticiparlo, ma non è bastato. Secondo posto e la forma è bene? Sì, la forma sta ritornando e mi dispiace perché è un altro secondo posto in un grande tour, però ci riproviamo. Grazie mille.